Con il presidente del Bruzzium Cosenza Canonico, è stata nel primo tempo una squadra forse un po' bloccata la vostra, ma nel secondo tempo voi eravate la Luzzese e loro erano la Bruzzium, battute a parte, avete dimostrato per l'ennesima volta di essere una squadra che non molla mai. Assolutamente, questo è il principio del Bruzzium in linea col progetto sociale, che è quello di fare un calcio pulito, un calcio senza interessi, senza padroni, in cui ci si gioca la partita dall'inizio alla fine. Nel primo tempo abbiamo provato a imbrigliare la Luzzese, vista anche la differenza tecnica tra le due squadre, purtroppo due errori della difesa, due gol, ma comunque la Luzzese ha espresso un ottimo gioco. Nel secondo tempo siamo scesi con più grinta, abbiamo raggiunto il 2-1, abbiamo ferrato il palo con Martire e poi un gol in presunto fuorigioco. Abbiamo cercato di dare soddisfazione come squadra ai nostri tifosi, che in tanti ci hanno scelto. Ringrazio l'ospitalità della società di casa, che ci è stata molto vicina, è stata una bellissima giornata di sport, questa è la cosa che ci preme sottolineare. Ne abbiamo parlato anche con il presidente Mirabelli, sentire le due tifoserie e cantare per 90 minuti, inneggiare al bomber marulla, poi festeggiare alla fine tutti insieme sotto i rispettivi settori. È uno spot per il calcio questa giornata? Assolutamente, noi crediamo che sia davvero un passo avanti anche in queste categorie dove purtroppo succedono episodi poco edificanti per il calcio. Noi facciamo l'aggregazione il nostro motto, facciamo dell'aggregazione il nostro principio, per cui al di là del risultato ci piace vincere sugli spalti e quest'oggi ci siamo riusciti. Grazie anche alla simpatia dei tifosi della Luzese, è stata una bellissima giornata di sport, peccato per il risultato. Adesso giocheremo le nostre tre partite come tre finali provando a salvare non soltanto un campionato di promozione ma un progetto di rinascita del calcio popolare, un calcio che parte dal basso, che non muove grossi capitali, è un calcio che vuole dimostrare che se si vuole anche con mille difficoltà, tra mille difficoltà, si può provare a costruire qualcosa. Vi sentite un po' dei pesci fuor d'acqua perché ci sono anche a volte i calciopoli nelle categorie minori, ci sono i rimborsi spese esagerati, ci sono episodi di violenza, ci sono i faccendieri del calcio direttantistico e poi ci siete voi. Sì, noi siamo forse una mosca bianca però ne siamo orgogliosi, è quello che portiamo sempre avanti, è il motivo che ci ha spinto a lasciare cinque anni fa lo stadio San Vito, contro la tessera del tifoso, contro un calcio che non ci piaceva, provando a costruire qualcosa sul nostro territorio e piano piano in quattro anni dalla terza categoria siamo riusciti a raggiungere la promozione che per noi è un traguardo importante che vogliamo difendere come categoria. Ci proveremo, lo faremo sempre con grande entusiasmo, con grande rispetto delle regole e degli avversari. In bocca al buo per il progetto. Crepi, grazie a voi.